E' troppo sensibile la tua macchina, per la forza ho detto anche di meno si potrebbe, ecco, non pensavo. Come si chiama, Peter Verma? E' un po' più delicato, ecco qua, quella luce è un po' più, ecco, effettivamente viene meglio con meno luce. Se tu hai presente, sai che le farfalle di solito hanno una canuccia, come si chiama? Ecco, ecco, così si dà davanti, così è molto bello.